Ciao a tutti, e benvenuti nel mio canale. Preparatevi, perché ci accingiamo ad immergerci in un inedito episodio di Terra Amara, capace di strapparvi il fiato. L'eco della morte di Ankar risuona come un fardello, portando con sé un vuoto di domande. Chi potrebbe aver compiuto un gesto tanto spaventoso? Rimaniamo uniti, scoprendo i segreti celati in questo mistero. Osserviamo Sevda barcollare sotto l'incalzante interrogatorio. Mentre ci immergiamo nel mondo di Bass e Mugeigan, intrappolate in un'autocarica di tensione. Mugeigan, ancora tormentata dal dolore e dal rimorso, si chiede come Sevda possa essere l'autrice di un così brutale omicidio, con uno strano dubbio negli occhi. Bass, con fermezza, dichiara, sono certa che sia stata lei. L'atmosfera si fa densa, seguiamo Bass nelle ore successive all'omicidio, avvicinandoci in modo inquietante alla dimora di Sevda. Nell'oscurità, vediamo Bass silenziosamente togliersi le scarpe, preparandosi ad entrare furtivamente nella villa. Ignara del pericolo imminente, Sevda accarezza un gattino, offrendo a Bass l'attesa opportunità. Bass si dirige al piano superiore, dove le scale diventano il prologo al suo sinistro piano. Nel silenzio della camera da letto, il suo piano malvagio comincia a prendere forma. Con cura, estrae i gioielli rubati ad Ankar, collocandoli in un cassetto senza lasciare tracce. Con uno sguardo finale, esce dalla stanza, piantando una trappola per Sevda. È quasi fuori, ma il destino ha in serbo un altro colpo. Quasi come un attimo prima che Sevda potesse scoprirlo, tutto ebbe inizio. Si nascose dietro una porta e, quando il pericolo svanì, fuggì rapidamente dalla casa. Fuori, i sandali di Bass rimasero abbandonati, ma un'altra figura emerse all'orizzonte. Una donna che gettò uno sguardo furtivo verso Bass. Era la zia di Mujaygan, scoperta da occhi curiosi. Un ribaltamento inaspettato che avrebbe potuto cambiare tutto. Nel frattempo, assistemo alla tensione palpabile nella stazione di polizia. L'interrogatorio di Sevda proseguiva mentre il procuratore svelava la scoperta dei luminosi gioielli di Ankar nascosti nella sua abitazione. L'atmosfera si fece ancora più densa quando Demir, con un'espressione carica di delusione, fece il suo ingresso. La scioccata Sevda non poteva accettare che l'uomo che considerava come un figlio potesse pensare che lei avesse commesso un crimine così orribile. Disperatamente, si rivolse a Demir, giurando la sua innocenza e suggerendo che potesse essere vittima di un complotto. Il procuratore, gelido e tagliente, delineò senza mezzi termini le prove contro Sevda. Ecco i fatti. Ecco i gioielli di Ankar ritrovati nella tua dimora. Avete litigato? Hai perso la testa e l'hai uccisa. Queste parole rimbombarono come martelli, pesanti come il piombo. Sevda si sentì devastata, costretta ad affrontare una realtà che sembrava non lasciare scampo. In un gesto di disperazione, si abbandonò su una sedia, rivolgendo a Demir uno sguardo carico di angoscia. Si poteva quasi percepire il dolore di Demir mentre lottava per contenere le lacrime e la rabbia. Fuori dalla stanza, confabulò con l'avvocato, ostinandosi a non voler accettare che Sevda potesse aver commesso un gesto così efferato. L'avvocato, tuttavia, insisteva, mettendo in evidenza la schiacciante solidità delle prove. Un momento di acceso confronto si accese quando Demir insistette sul fatto che, se Sevda fosse stata davvero colpevole, avrebbe dovuto eliminare le prove. Ma l'avvocato ribatte, proponendo l'ipotesi che forse Sevda non aveva previsto di diventare una sospettata e che avrebbe potuto progettare di vendere i gioielli. Di fronte a noi si svela una scena straziante. Sevda in catene, che passa davanti a Demir con uno sguardo disperato. Demir, con il cuore affranto, osserva mentre la donna che suo padre ha amato profondamente attraversa la scena. Nel frattempo, Bass fa il suo ritorno alla dimora di Fekeli, con Mugeigan al suo fianco. Mantengono l'aspetto della vittima innocente. Bass è indignata dalle accuse di Mugeigan, mentre quest'ultima, pentita, si scusa per il suo giudizio sbagliato e cerca il perdono di Bass. Con un sospiro di sollievo, Bass accoglie Mugeigan in un abbraccio riconciliante. La scena si sposta alla tenuta Yaman, dove Demir, con un gesto di resa, si siede abbattuto nel salotto. Zuleya fa il suo ingresso e si siede accanto a lui, chiedendo notizie su Sevda. Demir rivela che il giorno seguente sarà chiamato a deporre in tribunale. Zuleya, spaventata e preoccupata, cerca chiarimenti. Demir ammette la scioccante scoperta dei gioielli di Ankar nella casa di Sevda. Zuleya, sconvolta e incredula, respinge con forza l'idea che Sevda possa essere la vera colpevole. Manifesta i suoi dubbi a Demir, chiedendo se veramente lui creda che Sevda sia coinvolta. Ma Demir, sconvolto, confessa a Zuleya di sentirsi come intrappolato in un labirinto, incerto su cosa pensare. Afflitto dal senso di colpa, Demir insiste sul fatto di essere stato lui a causare tutto. Crede di aver alimentato la rivalità tra le due donne, creando un terreno fertile per le ostilità. Ammette di aver sbagliato a portare Sevda a Kukurova, soprattutto al matrimonio di Sabatin. Ora Demir si sente responsabile per la tragica fine della madre. Tuttavia, Zuleya rifiuta di permettere a Demir di portare su di sé l'intero peso della colpa. La scena si sposta nel salotto della tenuta, dove le donne si sono radunate per commemorare Ankar. Zuleya si unisce a loro, ma notando l'assenza di Amminé, condivide le sue preoccupazioni con Demir. Segue un momento di profondo struggimento. Amminé, con un piatto tra le mani, si muove lentamente verso il cimitero. Giunta alla tomba di Ankar, inizia un monologo intimo e toccante. Promette alla figlia che rimarrà sempre con lei e che finalmente può trovare la pace dopo una vita segnata dalle lacrime. Dice di aver portato il suo piatto preferito e desidera abbracciarla presto per allontanare la sua paura del buio. Da lontano, Demir e Zuleya raggiungono Amminé. Osservano la scena commovente e poi la accompagnano gentilmente a casa. Rientrati alla tenuta, trovano Fekeli che si aggira vicino alla finestra di Ankar. Amminé si avvicina a lui e chiede se è venuto per Ankar. Lo esorta a nascondersi, temendo che la sua presenza possa disturbare Adnan, padre di Demir. Rivela che Ankar è stata promessa in sposa ad Adnan. Ma il suo cuore appartiene solo a Fekeli. Fekeli, commosso e con gli occhi lucidi, ringrazia Amminé. Quest'ultima lo prega di non far soffrire Ankar. Di rendere la sua vita felice e di vegliare su di lei. Nel frattempo, la scena si sposta alla dimora di Fekeli. Nel salotto, Beis e Mugeigan sono in attesa. Poco dopo, entrano Ilmaz e Fikret, Zia e nipote. Si informano sulla presenza di Fekeli. Ilmaz rivela che Fekeli è al cimitero per onorare Ankar. Si sviluppa un dialogo tra i quattro. Fikret esprime dubbi sul coinvolgimento di Sevda, ma Beis sposta subito l'attenzione su Demir. Secondo lei, le azioni precedenti di Demir hanno causato tensioni e risentimenti tra le due donne, culminando nella richiesta di Ankar affinché Sevda lasciasse la città. Sevda rifiutando avrebbe scatenato una lotta dalle conseguenze fatali. Improvvisamente, Beis esclama di sentire freddo e chiede a Mugeigan di recuperare il suo cappotto dall'atrio. Mentre Mugeigan afferra il cappotto, una lettera cade dalla tasca. Mugeigan la raccoglie, intrigata, e comincia a leggerla. Il contenuto della lettera la lascia scioccata. Cosa potrebbe esserci scritto in quella lettera da turbare tanto Mugeigan? Questa anticipazione termina qui. Se sei curioso di sapere come si evolverà la storia, lascia un mi piace ed iscriviti al canale per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!